Parliamo del Luna Park a Cornigliano, una scelta in visa ai corniglianesi che parlano di un mancato rispetto dell'accordo di programma che in quelle aree vedrebbe un centro sportivo. Ad esempio, che cosa è emerso oggi in Consiglio Comunale dopo il suo 54? Ma innanzitutto ho voluto presentare questo articolo 54 per cercare di dare una risposta agli abitanti di Cornigliano perché siccome è già il secondo anno che si ripete questa situazione sempre nello stesso periodo, l'assessore Bordilli mi ha chiaramente risposto che ancora ad oggi non è stata presa una decisione, nel senso si stanno cercando delle aree. Ovviamente queste aree una volta che saranno destinate all'utilizzo del Luna Park per alcuni mesi ci sarà attenzione da parte dell'amministrazione a far sì che queste aree non siano aree destinate a due mesi di utilizzo del Luna Park e poi in stato di abbandono per il resto dell'anno. Saranno aree ovviamente dove verranno fatte più attività, ci sarà una bonifica, ci saranno delle attività, un'area destinata non solo a Luna Park e questo mi fa pensare che ad oggi siccome che l'ipotesi era quella di Cornigliano magari non potrebbe essere quella di Cornigliano. Sì perché tra l'altro è anche una zona a rischio di sondazione quella lì. Esatto c'è ancora da mettere in sicurezza la sponda destra del Polcevara, ci sono ancora un sacco di interventi da fare in quell'area, poi giustamente i Corniglianesi rivendicano il fatto che quell'area comunque deve essere diciamo ridata al quartiere con attività utili al quartiere. Sicuramente il Luna Park non è una servitù perché non è una servitù ma comunque lì i Corniglianesi si aspettano un qualcosa di più, un qualcosa che faccia poi veramente vivere il quartiere. Magari un parco urbano visto che avranno poi la servitù del DAC? Eh quella lì comunque sì un parco urbano e non solo, magari si poteva anche ipotizzare una costruzione un po' più grossa come un palazzetto dello sport multidisciplina. Visto che Genova vi sono molte attività sportive, molte associazioni sportive, sarebbe bella una struttura dove all'interno venissero svolte tante attività sportive e fare vivere il quartiere sette giorni su sette. Dall'anno prossimo però al Luna Park in piazzale Kennedy non potrà restare, quindi che cosa si fa? Non si è parlato di tempi, l'assessore non ne ha parlato, quando si deciderà? L'assessore ha detto che stanno lavorando molto bene, molto in sinergia con gli attrattori degli spettacoli, i gestori del Luna Park, stanno lavorando in sinergia, stanno cercando di individuare delle aree e più di questo poi non ha potuto dire. Grazie. Grazie. Grazie.